Pagina sportiva ben trovati, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso noto che la partita del Perugia rinviata domenica scorsa contro il Varese, valevola per la diciottesima giornata del campionato di Lega Pro Prima Divisione Gironea, dovrà recuperarsi mercoledì 13 gennaio alle ore 14.30. La partita era stata rinviata domenica, dunque questi gli impegni del Perugia che riprenderà la preparazione il 28 dicembre, ben tre partite in sette giorni, la prima in trasferta, la seconda gara di ritorno contro il Figline il 10 gennaio, tre giorni dopo di mercoledì il 13 gennaio il recupero della prima gara di ritorno contro il Varese, mercoledì 13 alle 14.30. Quattro giorni dopo, domenica 17, ancora una partita in casa contro la Propatria per la terza giornata di ritorno del campionato. Ed ora vi proponiamo invece alcuni dei passaggi più significativi dell'intervento a fuoricampo del direttore sportivo del Perugia Sandro Marcaccio che ha parlato di mercato, ha parlato di bondi, della possibile cessione di Benassi, del perché Zaffaroni stia facendo bene invece perché Appaiari è andata male, ma ha parlato anche del presidente Covarelli che secondo lui ha trovato solo alla sua riva a Perugia e che ancora sarebbe solo alla guida di questa società. Sentiamo i passaggi più significativi delle dichiarazioni di Marcaccio che parte anche da una consapevolezza, cioè ci racconta perché non è riuscito a fare una carriera migliore di quanto ha fatto finora. Sì, però ormai ho un'etichetta ben precisa nel calcio che è quella di essere chiamato quando le società sono in difficoltà e quindi sono diciamo tra virgolette rassegnato e felice di questa situazione per cui ormai il mio mercato è quello. E le chiedo, dalla difficoltà alla promozione di solito quante stagioni passano? È molto difficile questa cosa in un anno, però credo che se riusciamo a fare un buon mercato ora e per quanto riguarda la tifoseria sono tranquillo che ci appoggerà fino alla fine, ci proveremo sicuramente. Un terzino con Zoppetti riciclato anche da centrale oppure perché a me Zoppetti sembra un buon centrale. Questa è una domanda molto molto pertinente. Ecco, quello io mi domando. Non risponderò però è molto pertinente. Benissimo. E quindi potrebbe riguardare quel ruolo. Dennis Curiale è stato un mio obiettivo per un mese e mezzo quest'estate. Dico che uno che sceglie Cittadella in Serie A a Perugia in Serie C non mi convince. Mi danno il merito di aver portato Bondi, molti giornalisti insomma. Adesso io questa sera pubblicamente dico che il merito del fatto che Bondi sia a Perugia è di Rafael Bondi. Che ha spinto. Sì, perché mi ha rotto le scatole per due mesi e perché voleva venire qua. E queste sono cose che poi fanno la differenza. Benassi è a rischio? Se ne può andare? Ma per quello che è successo fino ad oggi no. E non credo che ci saranno richieste così importanti da obbligarci a cederlo ovviamente. Non credo ci sarà. Perché l'unica molla sarebbe quella economica, arrivasse una bella cifra. La voce del Catania non era vera? No, nel senso che c'è stato così un approccio tra il nostro presidente e qualche pseudo dirigente del Catania. C'è però questo, abbiamo capito. Pagliari è uno che conosce molto bene questa piazza, è uno che si giocava tantissimo quest'anno, per cui preparava tutte le partite minuziosamente, creando anche grande pressione alla squadra. Perché ogni domenica era quella decisiva. Zaffaroni non ha nulla da perdere, non aveva fino ad oggi. Per cui ha lavorato con grande serenità, con incoscienza, lasciando anche una certa libertà sia nei comportamenti che nella manovra di alcuni calciatori. Bondi, per esempio. Per cui, senza fare nomi. E quindi diciamo che in questo momento si è vista una squadra un attimino più incosciente, più decisa ad attaccare, più libera mentalmente. I problemi cominceranno dalla prossima partita. Ho capito, quando sarà il caso che... Che non si potrà più sbagliare nulla. Esatto. Capito. Io sono venuto qua il 28 maggio e ho firmato il contratto il 15 luglio. In quell'intervista dissi che avevo firmato il contratto proprio perché avevo visto una persona sola, presidente solo. Era una mia sensazione, oggi lo è ancora di più, ma è solo una sensazione. Cioè, oggettivamente io non ho... Quello che è successo a Foligno, dal mio punto di vista, è un fatto assolutamente unico. Perché in un derby, quando ci sono i due sindaci, ci sono i due presidenti seduti vicino. Insomma, questo mi sembra un fatto assolutamente... Poi dopo ci siamo alla fede, queste cose io non le so, però è un fatto assolutamente straordinario e unico. Ripeto, sono mie sensazioni di oggettivo. Io non conosco le cose della società, le sue personali, però è da allora che ho notato questa solitudine. E vi ricordo che l'intera trasmissione fuoricampo andrà in onda di nuovo domenica sera alle 23 e lunedì alle 21 su Umbria TV e Umbria Channel Sat. Tra l'altro abbiamo realizzato un piccolo speciale del Sandro Marcaccio Stori, della sua esperienza a Perugia, di un personaggio che fa discutere ma che piace anche molto e che vi proporremo nel corso di questi giorni, nel corso dell'approfondimento del Dopo Tg, oltre il Tg. Grazie. Grazie a tutti.